Dalle coperture delle stazioni principali al trattamento dell'aria negli impianti di depurazione, al naso elettronico sul depuratore di monopoli e alle nuove tecnologie per le vasche di ossidazione, per un investimento superiore a 110 milioni di euro, Acquedotto Pugliese ha fatto il punto sulle attività messe in campo per contrastare le emissioni od'origine e garantire una qualità dell'ambiente sempre più elevata con tutte le positive ricadute sul benessere dei cittadini. E questo è il tema della conferenza stampa in streaming a cui hanno preso parte il presidente Simeone Di Cagno a Brescia, il coordinatore industriale direttore reti e impianti Francesca Portincasa, il direttore generale di Arpa Puglia Vito Bruno e il direttore generale dell'AEP Vito Colucci. Acquedotto Pugliese è impegnato in un'intensa attività rivolta a migliorare la qualità dell'ambiente e quindi il benessere delle comunità servite. In quest'ottica rientrano il potenziamento e l'adeguamento tecnologico dei suoi 183 depuratori sparsi su tutto il territorio regionale, ha dichiarato il presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone Di Cagno a Brescia.